E' stato il culmine di un rapporto malato, sfociato in un'aggressione violenta a danno di una minorenne di 17 anni, da parte del suo ex fidanzato, un ventenne, già agli arresti domiciliari per il reato di stalking. La ragazza è stata colpita più riprese con calci e pugni. Inoltre sul corpo sono presenti segni riconducibili, secondo le prime indagini, al colpo dei gommini delle pistole ad aria compressa. La minorenne, a seguito dell'aggressione avvenuta intorno alle 18 nel comune di Corigliano Rossano, è stata prontamente soccorsa e trasportata presso il presidio ospedaliero locale, dove ha ricevuto assistenza da parte dei sanitari che le hanno riservato una prognosi di 25 giorni. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata tratta in inganno dalla Guzzino tramite un messaggio di richiesta d'aiuto, creando una trappola che ha generato un ulteriore epilogo alla serie di episodi di violenza di cui la ragazza era vittima. Si era già verificato, infatti, nel novembre scorso, un avvenimento similare in una palestra che ha spinto la vittima a denunciarlo. Ai tempi, l'aggressore fu sottoposto a un provvedimento di allontanamento, tramutato poi in arresto domiciliare. L'episodio di violenza, ripresentatosi ancora una volta, ha orientato la difesa ad avanzare un'istanza per chiedere l'aggravamento della misura cautelare.